Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale Per questo terzo appuntamento per la sede sul Railroad ho deciso di fare qualcosa di un attimo particolare Diciamo che la teoria oramai dovrebbe essere abbastanza compresa Poi potremmo ancora discutere qualcosa sulle tecniche di Railroad ma è meglio passare un attimo alla pratica prima Mi sono interrogato su quale fosse il modo migliore per veicolare un'azione pratica in una serie di video teorici Credo aver trovato il modo più giusto Quindi questa settimana andremo a parlare del Railroad in una forma specifica Questa settimana parleremo di quella volta che i giocatori dovevano andare ad affrontare il Drago Un racconto morale per ragazzi Una decina di anni fa stavo masterando una campagna di Dungeons & Dragons Era ancora 3.5 Senza scendere troppo nei dettagli i giocatori dovevano gestire un loro regno E stavano ammassando un esercito preparandosi a fare guerra contro il regno rivale Con cui erano ai ferricorti già da un annetto di campagna Avevano finalmente deciso di prendere iniziativa e iniziare una corsa agli armamenti Per far passare questo stato di guerra fredda in una guerra calda A quel punto io come master ho sentito le varie richieste, le varie proposte E poi mi sono messo a organizzare la quest e organizzare il relativo binario narrativo Che avrebbe dovuto portarli dal essere un regno fondamentalmente smilitarizzato A diventare una potenza militare nella loro regione Tra le richieste che i giocatori avevano fatto c'era anche quella di poter reclutare un Drago In modo da avere un supporto aereo e comunque avere un mostro grosso Che potesse occuparsi di situazioni impreviste sul campo di battaglia Non mi era sembrata una richiesta così irragionevole Era anche in linea con quello che si sapeva dell'ambientazione Si era già parlato di draghi che avevano combattuto una battaglia E i draghi non erano mostri così infrequenti in quel mondo di gioco Quindi mi è sembrata una cosa anche figa da far fare in quest E ho preparato un binario che li portasse a arrivare a reclutare un Drago per il loro esercito I personaggi hanno cominciato a mettere in giro la voce Che stessero reclutando armate e che fossero interessati anche a reclutare un Drago Quindi dopo qualche giorno di gioco Mentre loro avevano già cominciato a fare i primi passi in altri pezzi del binario Uno dei loro funzionari governativi gli è tornato nel regno Dicendo di avere buone notizie Che non troppo distante al loro regno C'era un villaggio vicino a una catena montuosa Dove si dicesse abitasse un giovane Drago d'Argento Che aveva già lavorato come mercenario E che molto probabilmente sarebbe stato possibile a reclutare Più sono giovani più li possiamo influenzare Boh dai allora questi qua finiscono di montare queste macchine da guerra E noi andiamo direttamente lì Questo era il gancio narrativo da cui avrebbe dovuto partire l'intero Railroad Quello che io come Master volevo è che loro arrivassero a reclutare questo Drago d'Argento Ovviamente però comprare i servizi di un Drago è qualcosa che va a costare una quintalata di monete d'oro Un po' per evitare che i giocatori poi abusassero di questa possibilità E un altro po' per evitare che fondamentalmente ogni volta che loro in seguito si sarebbero trovati in qualche tipo di difficoltà Avrebbero potuto semplicemente sganciare dei soldi a un Drago per risolvere la questione al posto loro Non mi sembrava però neanche giusto che i giocatori dovessero spendere parte del tesoro Per pagare qualcosa che effettivamente non potenziava i loro personaggi neanche in maniera indiretta Il Drago non avrebbe mai realmente combattuto sulla griglia quadrettata insieme a loro Era un deterrente, era qualcosa che avrebbe funzionato solo a livello narrativo Mi sembrava abbastanza scorretto sottrarre risorse ai loro personaggi per qualcosa che poi non gli portava a nessun vantaggio meccanico Quindi da master particolarmente esperto trovai un'idea ovviamente geniale di cui ero molto orgoglioso Che avrebbe risolto la questione in una maniera molto facile Dopo qualche giorno di cammino arrivate alle pendici delle montagne La vostra mappa vi indica che qui dovrebbe trovarsi un villaggio Ma in realtà quando arrivate in zona del villaggio non trovate altro che rovine e incenerite Sembra che qualcuno ci abbia preceduto Vabbè cerchiamo dei sopravvissuti Esplorando le rovine del villaggio trovate una coppia di anziani Che sembra essersi salvata dalla discussione rinchiudendosi in una delle cantine Vecchi, dittici cosa è successo qui Un drago è sceso dalle montagne, ha dato fuoco al nostro villaggio Si è mangiato la guarnigione, oddio le fiamme, il fumo, il fuoco Sembra che il drago l'abbiamo trovato Non è socievole come ci aspettavamo ma Tanto a noi serve un drago da guerra, mica un drago da ricevimento Andiamo a cercare questo qui, va Dopo una mezza giornata di ricerca tra i fianchi scoscesi della montagna Riuscite a trovare quello che sembra essere l'ingresso di una grotta Che potrebbe essere la tana del drago Intorno all'ingresso della caverna ci sono segni di artigliate e segni di bruciature Sembra proprio il posto in cui si nasconderebbe un drago No dai entriamo Il cunicolo si allarga man mano che proseguite Alla fine diventa abbastanza largo da sfociare in una caverna a volta Sul fondo della caverna vedete il cumulo del tesoro del drago Oh tesoro Il nostro tesoro Su un lato vicino all'ingresso c'è la carcassa bruciacchiata e smangiocchiata Di quello che sembra essere un giovane drago d'argento Oh mica Con tutto sto tesoro, tutti sti soldi Non poteva comprare un cazzo di cancello con il lucchetto, il videocitotto Da mettere all'ingresso della caverna Mentre in cima alla pila del tesoro Sul nostro tesoro Sa un grande drago rosso Che vi sta guardando con occhi fiammeggianti Sbuffando fumo dalle narici Sono Sulfurax L'invincibile Chi osa entrare nella mia tana Se siete alleati di quel debole drago d'argento Preparatevi a combattere e a morire Quello che doveva succedere ora era abbastanza ovvio I giocatori avrebbero affrontato Sulfurax il drago rosso e l'avrebbero ucciso Si sarebbero precipitati sul tesoro E all'interno del tesoro avrebbero trovato una pergamena di resurrezione La cosa più ovvia da fare era usare la pergamena di resurrezione Sul cadavere del drago che avevano lì Rianimare il drago che erano lì per reclutare E il drago grato del fatto di essere stato riportato in vita Avrebbe accettato di lavorare a gratis per loro Considerando i suoi alleati Aveva anche previsto la possibilità che ci fosse un dibattito Tra i giocatori e il drago d'argento Sul fatto che loro volessero il tesoro Ma il tesoro era quello del drago Ma essendo un master molto astuto Aveva già previsto la soluzione Il drago d'argento avrebbe semplicemente detto Che la parte del tesoro che era già sua Se la sarebbe tenuta Ma avrebbero potuto tenersi Tutta la parte del tesoro Che il drago rosso aveva portato dentro la tana Fondamentalmente sarebbe stato Il normale tesoro per un drago Dove quel livello Ovviamente le cose non andarono affatto così Ma sto drago è un coglione Ma dove siamo capitati? Vabbè dai che ti frega È grosso È un drago A noi servo un drago grosso Dobbiamo combattere gente Preparatevi a morire di fronte al mio Sì va bene Ah dottor Sutra Se ci lasci parlare un attimo Noi siamo qui perché dobbiamo reclutare un drago E combattere una battaglia Sì lo so che quel miserabile del drago d'argento Lavorava come mercenario Proprio così che ho scoperto la sua tana Ma oramai lui è morto E ho reclamato come i miei Il suo territorio è il tuo tesoro E se voi siete qui per vendicarlo come suoi alleati Non troverete altro che Guardi siamo forestieri Non siamo alleati di nessuno Siamo qui per affari Noi siamo qui perché dobbiamo ingaggiare un drago Non ci hanno detto Che drago E comunque sia visto la fine che ha fatto il precedente A questo punto lei mi sembra il candidato migliore Data la devastazione in paese stavamo pensando di assumerla Ma potremmo addirittura mettere una buona parola per lei In più visto il suo interesse ad espandere i propri territori Direi che potremmo anche destinare al suo 8 per 1000 Diversi dei feudi che andremo a saccheggiare E qui è il momento in cui si va a parlare di binario spezzato Tutto quello che era stato previsto era semplicemente saltato E non c'era un modo per riportare la storia dei suoi binari Senza andare a forzare qualcosa Certo ovviamente Sul Furax aveva potuto decidere di attaccare lo stesso il party Però perché avrebbe dovuto farlo? Realmente lui non aveva niente contro il party Il party non aveva niente contro di lui E la proposta che avevano fatto era perfettamente in linea Con le motivazioni del personaggio Lui voleva ricchezza, potere E essere venerato dalla gente inferiore Come fondamentalmente tutti i draghi rossi di Dungeons & Dragons Per quale motivo avrebbe dovuto rifiutare ricchezza e potere E il compiacimento di diffondere il terrore negli altri Per rischiare la sua vita contro gli avventurieri che non conosceva neanche? Quello che feci all'epoca e quello che vi consiglio di fare Nel caso vi trovasse di fronte a queste situazioni È quello di invece di forzare i giocatori Cioè far attaccare il drago A secondare quello che sta succedendo Sì sicuramente io avevo già anche delle idee Su cosa il drago d'argento avrebbe detto Avrebbe fatto Però sono tutte robe che o si potevano trasferire sul drago rosso O potevano essere semplicemente cambiate E dover costringere i giocatori E quindi peggiorare la loro esperienza di gioco Solo per evitare di dover perdere poi mezz'ora io in settimana A riscrivere due cose Non ne valeva assolutamente la pena Mi sono limitato a lasciare che i giocatori reclutassero il drago rosso E la quest è anche migliorata Perché alla fine il drago rosso si è rivelato un personaggio più interessante Era una creatura estremamente arrogante e malvagia Che poteva dare un punto di vista E l'ha dato più volte in quest Molto particolare rispetto alle cose Il drago d'argento legale e buono Avrebbe dato un punto di vista totalmente diverso Ma di gente legale e buona che gli offriva la loro opinione I giocatori ne avevano già abbastanza E un altro po' quel drago è diventato Anche grazie alle mie superbe capacità recitative L'avete visto Uno dei personaggi più amati appunto Perché è totalmente sopra le righe La morale della favola di questo racconto morale per ragazzi È appunto quella di Non abbiate paura di spaccare il binario Perché non necessariamente questo vorrà dire Che l'esperienza peggiorerà Anzi potrebbe diventare anche qualcosa di molto migliore Il principale motivo per cui i giocatori amavano così tanto quel personaggio È che Sulfurax non era un drago che loro avevano reclutato Era il loro drago Era un PNG con cui hanno riusciti a stabilire una connessione E dal loro punto di vista Loro si erano perfettamente meritati di avere quel PNG Perché erano riusciti con la diplomazia E con l'elogio a far tasso dalla propria parte Si sentivano perfettamente gratificati Perché i loro sforzi li avevano portato ad avere quell'alleato Anche se non era assolutamente quello che era stato previsto per la quest Come sempre spero che il video vi sia piaciuto In questo caso devo anche ringraziare Vidar e il vecchio Lu Che sono due le mie parti di gioco Che si sono prestati Mi raccomando complimentatevi con loro Per le loro superbe capacità recitative Sicuramente non all'altezza delle mie Ma anche loro hanno dato un contributo Ovviamente come sempre Mi piacerebbe sapere da voi Cosa fate quando vi si spezza il binario Se vi è capitato o se non vi è capitato Come fate a riportare la storia in carreggiata O se anche voi preferite che i giocatori vincano E adattare poi voi la storia successivamente Se il video vi è piaciuto Mettete un like e condividetelo Che aiuta a crescere il canale Se non volete perdervi i prossimi video Schiacciate sul tasto della campanella Io sono il Master Kai Noi ci vediamo in un prossimo video Questa potrebbe essere Alla fine una delle cose più trash Mai filmate Ma sarà bella proprio per canter Sì no ma è volutamente trash Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video